La musica troppo alta sarebbe la causa di una violenta lite fra due vicini di casa. È accaduto qualche giorno fa a Pieve del Grappa, in un pomeriggio di afa e caldo. Gli animi già alterati, probabilmente fra i due, non corre buon sangue. Ad un tratto un 51enne esasperato ha chiesto al vicino, un operaio di 54 anni, di abbassare il volume della musica. Una richiesta che ha immediatamente innescato la lite. Sono volate parole grosse, ma non solo. Perché il 53enne, che aveva in mano una motosegala, ha brandita contro il vicino con tanto di minacce. Immediatamente sono stati alertati i carabinieri che hanno riportato la calma, ma l'operaio è stato denunciato per minacce.